Allora, spieghiamo un attimo ai telespettatori come si può aderire e cosa si deve fare. Sì, la cosa è molto semplice, è stata studiata appositamente perché sia semplice e per cui fruibile subito. C'è nella pagina del nostro evento, c'è un facsimile che si può scaricare, è già precompilato, basta inserire dove mancano i dati personali e il studio del legale a cui ci si può affidare, trovandolo nella lista dei legali che hanno aderito all'iniziativa. Il patrocinio è gratuito, questo va detto, perché giustamente è una delle domande che poi spesso e volentieri ci chiedono. Ecco, questa è una prima iniziativa, durerà ancora alcuni giorni, poi cosa succederà? Allora, l'iniziativa, così è stato deciso, è cominciata lunedì scorso, per cui il lunedì 13, e finirà con venerdì prossimo, queste due settimane, diciamo, per fare la denuncia. Dopodiché abbiamo intenzione, visto veramente il numero altissimo di denunce che stanno arrivando come riscontro, di proseguire questa denuncia con delle modalità che ancora adesso è un pochettino prematuro da... però una cosa che vogliamo dire è che non finirà qui, sicuramente ci sarà un risvolto, diciamo così, europeo.